ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come michelle unziker spicca per bellezza e sensualità con la scollatura fa scuola a tutte le ventenni eccola ancora una volta michelle unziker è tornata sotto i riflettori e mentre conduce striscia la notizia continua a lasciare tutti senza fiato con la sua bellezza come ormai succede praticamente da più di 20 anni la conduttrice svizzera ha raggiunto il traguardo dei 47 anni ma sembra che per lei il tempo non passi mai sempre solare illuminata dal suo fascino dalla sua bellezza e dalla sua sensualità è capace foto dopo foto di lasciare tutti i fan sempre a bocca aperta nelle ultime settimane ha sperimentato la gioia di diventare nonna per la prima volta grazie ad aurora che ha partorito il piccolo cesare gioia infinita per michelle che col suo corpo marmore o comunque fa ancora scuola alle neoventenni avete visto il nuovo scatto della nonna più bella d'italia la scollatura è profonda e la bellezza esagerata eccola michelle unziker manda in tilt il web la scollatura è profonda il corpo tramite il suo seguitissimo profilo instagram michelle unziker ha voluto condividere in anteprima coi fan l'outfit scelto per la nuova puntata di striscia la notizia che è tornata a condurre insieme al suo amico e collega come gerry scotti baciata dal sole con la sua solita incredibile bellezza ed eleganza michelle si mostra seduta con addosso dei pantaloni eleganti grigi abbinati ad una canottiera davvero scollatissima la luce illumina la chioma bionda mentre il prosperoso e florido decol e accento acuto t e accento acuto della conduttrice sembra essere davvero contenuto a stento appena pubblicato il post ha subito fatto il pieno di lichè lasciando tutti ancora una volta senza parole la conduttrice è un concentrato di bellezza e sensualità come al solito sono arrivati anche tantissimi commenti dai fan che non hanno perso l'occasione per elogiare la loro beniamina la nonna più affascinante del mondo un'eterna e intramontabile ragazza di talento e dal cuore grande cuore rosso scrive con tanto affetto una fan mentre un'altra aggiunge più bella e affascinante ora di quando avevi 20 anni bella bella davvero mani che applaudono si sprecano i complimenti per la unziker più radiosa e bella che mai e soprattutto felicissima per essere diventata nonna del piccolo cesare grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video grazie a tutti grazie a tutti